Il bisogno è abbattere il chiodo su questo punto qua, turismo, turismo e turismo. Non sarà certamente la soluzione di tutti i mali della città, ma i suoi effetti benefici per l'economia, e scusate se è poco, si sono visti. La grande affluenza di turisti, assieme al desiderio di tantissimi triestini di frequentare almeno in occasione delle festività i locali cittadini, ha permesso agli operatori della ristorazione di conseguire un risultato positivo, grazie soprattutto all'atmosfera e all'immagine che hanno caratterizzato la città dall'inizio di novembre. Tutti entusiasti della città, tutti entusiasti di Trieste, dell'addomo natalizio che è stato fatto in Piazza Unità, le luci di Natale, eccetera. I locali erano tutti pieni, pieni sia la vigilia, cioè il 31, sia l'1 anche, e ci sono ancora turisti in città. Un ruolo importante, secondo il presidente della Fipe, lo hanno avuti i mercatini, organizzati nelle vie del centro sia da associazioni private che dal comune. Da Aspettando il Natale, svoltosi dal 17 al 20 novembre, tutto il periodo dell'avvento è stato caratterizzato dagli appuntamenti con la tradizionale fiera di San Nicolò, col villaggio francese e quello austriaco, per finire col mercatino di Natale, conclusosi la sera del 24 dicembre. Ci sono stati degli acquirenti da oltre confine, sloveni, croati e anche austriaci, che sono venuti giù appositamente a Trieste per i mercatini. Devo dire che quest'anno i mercatini sono stati decisamente molto più belli degli altri anni, e noi, oltretutto con il commercio comune, dobbiamo andare avanti con i mercatini per migliorare ancora di più. Ma il presidente Vesnaver non dimentica che molti associati alla FIPE esercitano la loro attività nelle periferie dove non si sono tenuti i mercatini natalizi e quindi, anche sulla base della promessa dell'amministrazione comunale di valorizzare le aree più lontane dal centro, intende fare una proposta a sostegno degli esercenti che investono nella loro attività, ad esempio rinnovando il proprio locale. Chiederemo al comune Trieste delle agevolazioni per quanto riguarda le tasse comunali, per quanto riguarda le tasse sulla spazzatura, per quanto riguarda i permessi sui dos, che vengono agevolati, cioè chi investe in periferia il comune deve agevolare.